Stream Studios E questo è PopCast Leo Gasman, benvenuto all'interno di PopCast Ciao ragazzi, è un piacere essere qua Ciao Leo, intanto come stai? Tutto bene, tutto bene Sono a Roma che è una giornata meravigliosa Quindi meglio di così Ha piovuto questo weekend a Roma? Credo di sì, non ero a Roma Questo weekend perché ho girato un po' Ma credo di sì Era... sì, sì Penso di sì Sai che c'è questa cosa che quando ci sono i ponti Ci sono le festività e uno è a casa Può godersi la giornata, di solito piove Poi quando ricomincia la settimana Invece c'è sempre molto sole Allora Leo, noi PopCast Lo gestiamo così È uno spazio, mi piace sempre pensare E dire agli artisti che ospitiamo Che PopCast è uno spazio Molto libero in cui ci si può confrontare Si può chiacchierare a volte anche andando Un po' oltre Il progetto, quindi anche cercando di capire Come la persona Che c'è dietro l'artista vive determinate situazioni Determinate sensazioni Come per esempio Il lancio di un nuovo album E se io cerco il tuo nome su Google Trovo ovviamente di te Insomma tutto quello che tu hai reso pubblico Quindi quello che riguarda la tua carriera Quello che riguarda X Factor, Sanremo Ma se fossimo io e te senza telecamere Tu che cosa mi racconteresti di te? Qual è magari la prima cosa che ti piace raccontare? Forse anche relativamente al tuo lavoro Un aneddoto? Come sei arrivato a fare qualcosa? Quali sono le tue sensazioni? Se dovessi presentarti adesso Cosa ti piacerebbe raccontarmi a telecamere spente? Ma io cerco di vivere la mia vita Il mio percorso Sempre con grande entusiasmo Cercando comunque di Diciamo di vivere le persone Gli incontri che faccio Al massimo che posso E quindi diciamo che anche il progetto La strada per a carta Insomma parla di questo Di un'amicizia Di un gruppo di amici Che cercano comunque di Portare avanti i loro sogni E di inseguire anche la bellezza della musica E dell'arte in generale Poi io sono sempre molto contornato Da tanti artisti che fanno cose diverse Musicisti Cantautori A volte scultori Pittori E mi piace unire tutte le arti E coinvolgermi E mettermi alla prova Diciamo che questi anni Che mi hanno portato comunque Alla realizzazione del disco Sono stati degli anni Molto intensi Pieni di Di obiettivi raggiunti Obiettivi non raggiunti Pieni di successi E pieni di Porta in faccia Ma tutti sempre accompagnati Accompagnati comunque da Da una grande amicizia E da un grande gruppo di amici Che mi hanno sostenuto E io Spero di aver Di essere riuscito a sostenere loro E poi comunque Insomma questi tre anni Si sono conclusi Con un sogno meraviglioso Che è stato poi arrivare Sul palco dell'Ariston E Che ci siamo goduti E abbiamo condiviso tutti insieme Ecco È un album quindi Che unisce un po' i puntini Mi pare di capire No? Quindi che prende Tanti aspetti della vita Hai parlato di amicizie Hai parlato di arte Anche il fatto di Essere circondato da persone Che fanno tanto Cioè da essere circondato Da tanta arte Immagino che questa cosa Nella creazione di un album Dall'inizio alla fine Aiuti molto Giusto? Perché ti Influenza È importante Certo perché poi Comunque Insomma Certo sì Sicuramente Attraverso l'album Si percepisce Questa Questo grande amore Per la musica E insomma Per questo gruppo di amici Diciamo che Abbiamo realizzato tutto Dalle copertine Ai videoclip Ai brani in sé Ovviamente Ci sono collaborazioni Con artisti Stranieri Sia di Londra Che anche Uno che viene Addirittura Dall'India Sono tutte persone Che ho incontrato Nei miei viaggi Sono collaborazioni Che ho fortemente Evoluto Con artisti Semi sconosciuti Perché ancora Non hanno avuto La possibilità Di dimostrare Quello che sono Ma Credo che Siano riusciti A farlo ampiamente In questo Progetto E sono sicuro Che riusciranno A farlo Anche con i loro Progetti Insomma Durante Il loro Percorso Anzi Forse deve essere Bello Lavorare con gli artisti Quelli conosciuti Quelli affermati Però Molto stimolante Forse lavorare Con gli artisti Emergenti Perché Non lo so È come se avessero Più fame No? Dimmi se sbaglio Una fame Sì Poi più che altro C'è più C'è più C'è più Libertà Anche quando Lavori con Qualcuno Che magari Non è Troppo dentro All'industria musicale Non è sempre Un Un lato Positivo Essere all'interno Dell'industria musicale Perché A volte Sei Mentalmente Anche un po' Limitato Perché Magari Può capitare Sì Giustamente Magari Devi Insomma Devi Devi Realizzare Delle cose Che sai Che devono Funzionare E invece Lavorare Con artisti Stranieri O comunque Con artisti Che ancora Non hanno Dovuto Non devono Confermare Delle cose Comunque Ti permette Di essere Molto libero E di creare Delle cose Spesso anche Bellissime Cioè io C'ho dei brani Nel disco Che Quando li ascolto Mi fanno piangere Mi rendo conto Che sono dei brani A volte Anche Magari Non difficili Da ascoltare Ma comunque Complicati Per il periodo Storico Che stiamo Vivendo Dove Comunque La musica Principale È una musica Di intrattenimento Che fa Comunque Giustamente Anche Staccare la testa Le persone E farle divertire Però la musica Non è soltanto Questo A volte È questo A volte È anche Una sorta Di Di Dialogo Con noi Stessi A volte È musica Cantautorale C'è bisogno Del cantautorato C'è bisogno Che i ragazzi Tornino a suonare A stare insieme A fare gruppo Perché è una cosa Che un po' Si è persa Anche dovuta Un po' Forse Agli ultimi anni Dove siamo dovuti Stare chiusi in casa Insomma Ci siamo Separati moltissimo Secondo me C'è bisogno Di tornare A stare insieme A credere Nel prossimo A viversi Anche Stimolarsi Esatto Stimolarsi E viversi Di più Tra l'altro Io notavo Stavo spulciando Il tuo profilo Instagram L'altro giorno E notavo Che nelle storie In evidenza Hai Delle riflessioni Che è molto Con chi Con chi Con chi Ti segue Tratti anche Argomenti Che sono Magari Forse poco Instagrammabili Però Che serve Serve Parlarne Serve Metterli Alla luce Anche magari Da parte Dei più Giovani Tu magari Senti Un po' Di responsabilità In questo Il fatto Di voler Dare voce Non dover Voler dare voce A chi Magari Tu sei del 98 Quindi magari Chi è giovane Non ha Non ha modo Di esprimersi O di Venire anche A conoscenza Di determinate Situazioni Che possono Riguardare L'ambiente Insomma Il mondo Ma si Guarda Comunque Viviamo In un periodo Storico Nel quale Comunque Quelli che Vengono Comunque Chiamati Artisti Hanno Una bella Responsabilità E una grande Opportunità In realtà Che è quella Di essere In contatto Costante Con le persone Che li seguono E quindi Diciamo che io Cerco di utilizzare La popolarità Che magari Posso avere Su dei social Per cercare Anche un po' Di chiedere Alle persone Che mi seguono Come stanno Perché E spesso Ricevo notizie Cioè Risposte Che Ti Spaccano il cuore A metà Perché C'è tanto disagio C'è tanta paura C'è tanta Sofferenza E sono poche Le persone Che mi dicono Che stanno bene In realtà Questo perché Credo che Ognuno di noi Abbia delle cose Da dover affrontare E degli ostacoli Penso sia sempre Stato così Forse Oggi Ne si è Più consapevoli Di essere Di dover Comunque Fronteggiare Tanti problemi Nella società E questo ci porta A stare Più spesso Male O comunque Di cattivo umore Però è bello Perché Le persone Che poi Dopo rispondono Utilizzano Anche la chat Per sfogarsi Per dire delle cose Quindi credo che sia Avendo In minimo Studiato Anche un po' Di psicologia Penso che sia Anche Bello Per le persone Che hanno la possibilità Di scrivermi Potersi spogare Perché Non sono mai Cioè sanno Che comunque È una sorta Di diario privato Quella chat Quindi possono dire Delle cose Che magari Non direbbero A nessuno E io le leggo Con grande piacere Con grande affetto E quando magari Insomma Sono delle cose Anche Importantissime Magari Cerco di rispondere A tutti Cerco di rispondere A persone Che ne hanno più bisogno Per fargli capire Che comunque C'è sempre una soluzione Ai mali Che la vita Ci mette davanti Anche perché Spesso quei mali Sono delle opportunità Per evolvere Certo Io ho letto Non so Risposte Che tu dicevi Prima ti spaccano il cuore Ho letto Una risposta Che mi ha Proprio creato Questa sensazione Sono disintegrata Ricordo questa Questa risposta Che tu hai postato Tra le tante Alti e bassi Ho paura Ed effettivamente Fa riflettere molto Fa riflettere Ma d'altronde Anche Il tuo album Anche per esempio Volo rovescio Parla Del fatto di Non voler essere Per forza Etichettati Non voler Non stare per forza Etichettati Che non so O attaccati ad un cognome Essere se stessi Così come probabilmente La strada per Agarta È questo anche il senso Dell'album Quello di fare una sorta di Non voglio dire denuncia sociale Però quello di Dare voce A tante situazioni Ogni brano magari Ha un suo Scopo Sì Ogni brano è nato È nato da Un'esperienza Che ho vissuto E da Delle situazioni Che ho avuto La possibilità Di toccare con mano Volo rovescio È nato Sempre in collaborazione Con Riccardo Zanotti E Marco Paganelli Che sono Diciamo Gli autori Dei Pinguini Tattici Nucleari I protagonisti Dei Pinguini Tattici Nucleari Che sono persone Meravigliose E confrontandomi Con loro Anche avendo Comunque già Precedentemente Prodotto Terzo Cuore È uscita fuori Una conversazione Che era appunto Quella Dei pregiudizi E di come Potessimo Provare a sconfiggere Quei pregiudizi E quindi Sì Nella canzone Canto dei pregiudizi Canto E dico appunto Che spesso L'apparenza Non è tutto Quello Che Non è ciò Che è importante Spesso Non lo sappiamo Neanche noi stessi Cosa siamo veramente E quindi Va esplorato E può essere esplorato Attraverso L'amore E quindi Da lì Anche L'immagine Del volo rovescio Quindi dell'amore Che ci fa vedere Il mondo Da un'altra prospettiva Però sì Io diciamo Che ogni volta Attraverso la mia musica Cerco di portare speranza E ogni testo Comunque nasce Magari spesso Da una riflessione Che può essere vista Come qualcosa Di triste E pesante Per poi però Lasciare sempre Un po' di speranza Attraverso I testi Il mio scopo Nella vita Penso sia questo Quello di portare Dei sorrisi Alle persone Che non ce l'hanno D'altronde Nel video Ad un certo punto Tu corri fortissimo Fuori Libero E quindi probabilmente Anche A livello di immagine È la rappresentazione Perfetta Di quello che dicevi Mi piace il titolo Mi piace tantissimo La strada per Agarta Perché potrebbe essere Il titolo Di un libro fantasy Di un film fantasy Non lo so Cioè Qual è la strada Per Agarta Giusto per capire Cos'è Per te Ma Secondo la leggenda Agarta è un luogo Sotterraneo Dove vive Questa popolazione Di giganti Che vive solo Di musica Agricoltura Ci sono tanti scritti A proposito Di Agarta Io in particolare Ho letto Il Dio Fumoso Con un libro bellissimo Di William Emerson Una sorta di viaggio Di Culliver Ambientato nell'ottocento Però per me In realtà Agarta è stata È stato un viaggio Sul quale ancora Sono in cammino In realtà Dove ho avuto La possibilità Di incontrare Tante guide Tanti giganti Che mi hanno dato La possibilità Di assaporare La loro musica La loro arte E che mi hanno ispirato Comunque a A lavorare Alle collaborazioni Alle copertine A tutto ciò Che c'è intorno Alla strada per Agarta Quindi diciamo Che mi sono immaginato Di intraprendere Questo viaggio Alla ricerca Della bellezza Della musica E dell'arte In generale Dove io non sono Un protagonista Ma semplicemente Uno dei personaggi Poi ovviamente Il progetto Insomma È attribuito A me Però in realtà Ci tenevo Che questo 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 album Fosse Una sorta Di Testimonianza E una fotografia Comunque Della società Che io sto vivendo Delle persone Che io sto vivendo E sto conoscendo E approfondendo Nel mio percorso Perché Perché Penso sia La cosa più importante Condividere Un percorso E una crescita Con delle persone Che stimi E che ami Follemente Beh sì È il massimo Ma Per farmi un pochino I fatti tuoi Io ho visto Che hai cominciato A fare musica A sette anni È una di quelle cose Che Inizi a fare Perché realmente Hai la passione E dici Mamma voglio fare Musica Oppure Sei stato Che ne so Iscritto a scuola Di musica Sai quando sei piccolo E ti portano i genitori A fare Non so Sport Io per esempio Mio padre Per anni Ha cercato Di farmi fare Qualsiasi tipo di sport Eppure essendo io Scarsa in tutto Però poi Nel caso tuo Invece è stata Una scelta Più che azzeccata Hai chiesto tu Oppure sei stato portato Ma io avevo Questa tendenza Nell'armonizzare Le canzoni Che sentivo In macchina Con i miei Quando facevamo i viaggi Durante le vacanze E quindi mamma Ha deciso Di regalarmi Uno strumento E delle lezioni Di chitarra E mi sono appassionato Subito Nel senso che poi Comunque Sono stato Insomma Sono stato preso Al conservatorio Di Santa Cecilia Quando ero molto piccolo Sono stato lì Per cinque anni Poi ho lasciato Il conservatorio Insomma Sono sempre stato Molto libero E di scegliere Quale fosse Potesse essere Il mio destino La musica È sempre rimasta Al mio fianco Fino ad oggi Ed è sicuramente Un viaggio bellissimo Che mi sono concesso E ho avuto La possibilità Di vivere Quindi Diciamo che Forse Forse è stata la musica A scegliere me Però Io Mi sono lasciato scegliere Dai Diciamo così Tu l'hai accolta E hai iniziato A coltivarla E poi Crescendo Vabbè O logicamente Forse Iniziando A muovere i primi passi Anche da molto piccolo Più cresci E più Hai confidenza Con questa Con l'arte In questo caso La musica Mentre invece Con il palco Che tipo di rapporto Hai Nel senso che Io non voglio farti domande Che Possano in qualche modo Riguardare Insomma La tua famiglia Le tue generazioni Perché ne sarai Anche pieno Però Mi piace Questo Diciamo Questo aspetto Il fatto che tu Possa aver vissuto Il palco In diverse situazioni Ma nello specifico In questa tua carriera In questa tua vita Che tipo di rapporto Hai con il palco Ti gasa Sei felicissimo Di salire sul palco Sei emozionato Oppure Ti spaventa O magari Lo ha fatto In un determinato momento Prima che effettivamente Ingranassi definitivamente Ma a me il palco Mi diverte Poi ovviamente Un minimo Di adrenalina Prima di salire Sul palco Si sente Penso lo sentano tutti Credo forse Solo Garcobain A un certo punto Della sua carriera Ha smesso di provare Emozioni Prima di salire sul palco Però penso Che una volta Che smetti Di provare emozioni Insomma Inizia ad essere Un problema Da dover risolvere Il primo possibile Però diciamo Che quando salgo Sul palco Mi diverto Cioè io In realtà Il mio sogno Più grande È fare tanti concerti Con la gente Che viene Saltare con loro Stare insieme Cioè questo Comunque È l'obiettivo Principale È questo Mi diverte Mi piace Mettermi alla prova Stare in mezzo Ai musicisti Suonare Stare insieme Parlare Dialogare È una cosa Che mi fa star bene Quindi in realtà Insomma È una roba Bella Per me Sì È una cosa bella La tensione Che poi L'adrenalina Che però poi Ti fa divertire Tra l'altro Tu hai provato Il palco Live Al concerto Ma anche il palco Della televisione Perché comunque X Factor Ma anche Sanremo Immagino siano Due tipi Due tipo di Cioè due esperienze Diverse Giusto O Molto simili Ma sì Dai Sicuramente Dal punto di vista Della emozione Hanno delle sfumature Diverse Però è anche vero Che le ho vissute In due periodi In tre Di periodi diversi Diciamo Della mia vita Perché poi La prima volta Che sono andata Di X Factor Avevo Diciannove anni Sanremo Penso Ventuno E poi Ventiquattro Adesso Quindi Diciamo che Sono cose Che sono avvenute In periodi diversi Della mia vita E quindi Avevo anche Avevo anche Delle preparazioni Diverse A seconda Delle cose Che stavo vivendo Però sì X Factor Per me è stata Una scuola È stato un luogo Dove ho potuto Imparare Dove mi sono messa La prova Per la prima volta Dove mi sono voluto Dedicare alla musica Per tre mesi Senza pensare A nient'altro E Sanremo Invece è stata È stata Un'esperienza Insomma Unica Perché poi Comunque Ogni cantautore Ogni aspirante Cantautore Cerca sempre Di Di esserci In quel festival Perché è una È la storia Della musica italiana È un grande onore Salire su quel palco È una cosa che Quando sei lì Ti rendi conto Della fortuna Che hai E di quanto sia Importante Essere rispettosi Per quel palco E per le persone Comunque Che lo eseguono E sei consapevole Che stai scrivendo Un piccolissimo Pezzo di storia Stai aggiungendo Un piccolissimo Tassello Nella storia Di questo Di questo paese Perché poi Comunque La musica È anche cultura I costumi Quindi comunque Rappresenta È una sorta Di fotografia Della società Odierna E rimarrà Per sempre Quindi comunque È una grande responsabilità Se hai La sensibilità Di poterla cogliere Ecco Bravissimo Hai detto una cosa Molto bella Se hai la sensibilità Di poterla cogliere Che non è una cosa Scontata Senti Si sta avvicinando L'estate Che programmi hai Quest'estate Ma quest'estate Si suona parecchio Suonerò in giro Ho annunciato le prime Tre date Sui miei social Recentemente Faremo la prima data Zero A Porto San Giorgio In un teatro Bellissimo Il teatro centrale E poi suoneremo A Bimodrone Sugli Appennini Poi dopo Successivamente Però faremo tanti Suoneremo in giro Appunto Con la band Faremo Una venticinquina Di date In giro Molto felice Di poter portare La mia musica In giro Finalmente Dopo tanti anni Posso portare Anche brani Che magari Non potevo Fare ascoltare Quindi sono Molto felice Felicissimo Di avere Quest'opportunità E cercherò Di vivermela Col sorriso E con entusiasmo Bene Grazie Leo Leo Grazie mille Grazie a voi E in bocca al lupo Per tutto Per la strada Per Agarta Per il tuo tour I tuoi concerti E per la tua carriera Grazie Grazie a voi Ciao Buona musica Ciao Leo Ciao Puoi trovare Popcast online Su Streammo Radiocompany.com Spotify E Youtube Popcast È una produzione Streammo Studios Scritto e interpretato Da Carlotta Tripi La direzione artistica È di Mauro Tonello E Fabio De Magistris Il montaggio audio e video È di Alessandro De Biasi E Martino Gesuato Grazie a tutti Grazie a tutti